mi piaceva l'inquadratura questa stanza sarebbe anche bella per girarci un reading vlog però si sente il rumore dell'acquario e se lo spengo i pesci muoiono quindi non vorrei mai che morissero pesci benvenuti in questo reading vlog oggi leggeremo insieme ma non lo terminerò oggi l'altro nome di john fosse sicuramente voi lo sapete perché questa mattina ho registrato il video sui commenti su consigli sui consigli dei libri per quest'autunno e raccontavo che l'idea mi era venuta leggendo l'altro nome la settologia di john fosse quindi già lo sapete staremo insieme penso sicuramente due o tre giorni perché non sono andata avanti sto a pagina 55 come sempre mi sta piacendo però è presto adesso mi metto un po a leggere le mie letture questo periodo sono state scelte in base alle votazioni del premi nobel nel senso che volevo leggere qualcosa che era papà papabile di premio nobel così tanto per darmi un tono nel caso la mia attuale lettura avesse vinto non lo so io sto leggendo quello che avevo in casa che tra le altre cose è anche il più papabile per la vittoria secondo gli scommettitori eccolo quindi sto leggendo lui è l'altro nome di john fosse la settologia ve ne parlo meglio dopo io direi che questa inquadratura la possiamo utilizzare che dici vero stavo dicendo che le quotazioni al premio nobel hanno dettato la scelta delle mie letture mi posso spostare perché tanto lui ha scelto un altro luogo quindi sto leggendo john fosse l'altro nome adesso mi metto un po a leggere un'oretta quindi facciamo qualche aggiornamento a caldo però lunedì dovevo passare una giornata intera con sofia mia figlia a fare dei controlli e quindi che che succede che io quel quel giorno stavo terminando luce d'agosto di william falkner e william falkner anche se sono le ultime 70 80 pagine mi mancavano non è la lettura adatta se dovete fare code magari all'ospedale perché vi possono chiamare da un momento all'altro non è una scrittura che può essere letta agevolmente in luoghi affollati magari anche rumorosi quindi mi sono portata un libro e ho portato a nirno la vergogna l'ho finito è stato molto semplice perché volevo appositamente questo un libro che fosse coinvolgente dal punto di vista emotivo cosa che a nirno riesce a fare ma che sia anche semplice dal punto di vista della lettura e che quindi nel momento stesso in cui lo vado a interrompere per causa di forza maggiore perché magari mi devo spostare non impazzisco poi dopo quando lo riprendo per riprendere il filo del discorso questo è sicuramente uno dei grandi pregi di anni e che ha vinto il nobel l'anno scorso io di lei avevo letto altri tre o quattro libri non so li andiamo a prendere parliamo un po di anni e rnò questi sono i libri di anni e rnò che ho letto la donna gelata dovrebbe far parte di una trilogia ma non ricordo bene l'ho letto quando uscì in italia qualche anno fa carino però un po sorpassato una donna secondo me il più bello di anni e rnò colletto e parla della malattia l'alzheimer di sua madre e il poste invece parla del padre comunque la vergogna mi è piaciuto no non mi è piaciuto perché perché secondo me le parte da un fatto della sua infanzia le aveva 10 11 anni che l'ha segnata profondamente era una bambina dalla sensibilità molto acuta e quindi alcuni fatti del suo vissuto della sua infanzia sicuramente si sono ripercossi per lungo tempo il problema è che al di là di questo fatto e del racconto e questo fatto che impiega che dura tre quattro pagine poi tutto il romanzo è la rielaborazione di cose che ho già letto in altri romanzi perché anni e rnò è solita raccontare questa sorta di memoir dalla scrittura asettica quasi una scrittura che non lascia adito all'emozione e che per questo secondo me è abbastanza potente perché pur parlando di un fatto privato ne parla con una scrittura secca e quindi rende quel fatto privato asettico in maniera tale da renderlo universale questa secondo me la grande forza di anni e rnò molti dei suoi libri sono così brevi sono quasi tutti sono così brevi e ogni libro è focalizzato su un evento della sua vita io ho letto una donna il posto una donna è sulla figura della madre il posto sulla figura del padre e poi ho letto la donna gelata quei tre libri hanno già al loro interno il contenuto di questo quindi questo è stato un rileggere quei libri e il problema non è tanto questo è che se attingi al tuo vissuto e poi il tuo vissuto ovviamente un vissuto limitato perché anni e rnò ha avuto una vita alla portata di tutti non non ha avuto un'infanzia o almeno non ha avuto dei dei fatti così sconvolgenti da poter essere narrati non è oliver twist ecco anni e non è oliver twist quindi gira e rigira i fatti più o meno sono sempre quelli a lungo andare se tu ti ripeti nel contenuto non ti puoi ripetere nello stile e questo purtroppo lei lo fa nello stile a nerno si ripete parecchio e quella secondo me è la prima cosa che mi dà fastidio nel senso io posso superare la ripetizione nel contenuto perché sicuramente quando vai a riscrivere un determinato fatto una volta che lo riscrivi cambia anche il contesto di riscrittura e quindi per forza di cosa le vai a rielaborare in maniera diversa ma lo dovresti rielaborare anche con uno stile diverso e purtroppo lo stile di anni e rnò non si rinnova mai e quindi questo è il motivo per cui molto probabilmente la vergogna sarà l'ultimo libro che leggerò di anni e rnò sto leggendo il premio nobel me la posso squattare un pochino allora sono arrivata a pagina 106 70 più o meno quindi bene o male sto alla metà ho superato la metà ancora non l'ho superata però vabbè sto a metà del libro quindi magari qualche ragionamento si può fare insieme forse ho capito che si dice john fosse comunque volevo vedere la diretta del premio nobel però non ho avuto modo perché stavo lavorando verso l'ora di pranzo verso mezzogiorno quindi non potevo connettermi l'ho recuperata in un secondo momento quindi l'ho recuperata con le notizie su google e già il nome scritto quindi è andata così che cosa vi posso dire su l'altro nome l'altro nome è la prima e la seconda parte di una settologia allora iniziamo con il dire che l'altro nome è un titolo che identifica benissimo l'idea che sta alla base di questo romanzo un nome è qualcosa che noi diamo alle cose attraverso il linguaggio per identificarle quando viene scoperta una malattia si dice che viene scoperta e quindi quella malattia esiste nel momento stesso in cui gli viene dato un nome quando noi diamo un nome alle cose quelle cose iniziano a vivere i personaggi john fosse in questo libro agiscono in un gioco a specchi perché ogni personaggio ha un nome simile speculare contraddittorio all'altro si creano veramente dei riflessi per quanto riguarda la scrittura è una scrittura apparentemente molto semplice la difficoltà non si gioca per quanto riguarda la scrittura perché io fosse scrive in maniera molto semplice mi viene da ridere perché sto dicendo io fosse scrive in maniera molto semplice la frase molto lineare la complessità è data dalla struttura perché perché siamo in un flusso di coscienza un flusso di coscienza in cui non abbiamo un punto non ci sono capitoli non ci sono paragrafi non c'è nulla siamo nella testa di asle anche questo spero che si dica così l'unica cosa che intervalla questo flusso di coscienza sono dei dialoghi dei dialoghi ora con asle e altre persone ora anche con una coppia che lui vede all'interno di un parco e non sa se è una coppia reale quindi se è realmente esistente in quel momento in quel parco oppure è un ricordo prodotto dalla sua testa dalla sua immaginazione e probabilmente potrebbe essere anche un ricordo una rimembranza di quello che era lui con la donna che amava e che al momento è venuta a mancare asle comunque ha un amico ha un amico che ha un pittore come lui perché asle è prima di tutto un pittore e inizia l'altro nome con asle che osserva il suo quadro appena finito di dipingere un quadro questo quadro è dato da due linee mi pare una viola una marrone due colori abbastanza insoliti anche per iniziare un quadro e marrone e viola che vanno a formare una croce di sant'andrea quando si parla della pittura spesso in questo libro mi viene da pensare alla narrazione anziché parlare della pittura si potrebbe parlare benissimo della letteratura quando asle parla del suo procedimento di dipingere del suo mettere su carta tela mettere su tela quello che vede le immagini che magazzina con la propria testa e che per essere distrutte dalla sua mente le deve ripingere deve lasciare andare sulla tela mi viene in mente quello che potrebbe dire uno scrittore quelle sono le parti secondo me autobiografiche di jon fosse secondo me sì e c'è un grandissimo parallelismo tra la pittura e la letteratura quindi questo è l'ennesimo doppio che ci potrebbe essere all'interno di questo libro nel senso noi abbiamo di fronte a noi un pittore che ci sta parlando dell'arte della pittura in realtà in un altro nome avremmo di fronte a noi un scrittore che ci sta parlando della letteratura e di come si scrive e questa è una cosa molto interessante di questo libro vi ho trovato questo pezzo che ieri quando lo leggevo ho detto questo sicuramente è da raccontare lui scrive e mi rendo conto che non ho voglia di parlarne non mi va mai di farlo quando si tratta di un quadro che sto dipingendo o a dire il vero di uno che ho finito una volta che è concluso è il dipinto a dire quello che è in grado di dire né più né meno nel proprio modo silenzioso di comunicare il quadro dice ciò che riesce a dire e se non è ancora finito non può esprimere a parole come diventerà cosa dirà penso e dopo tutti questi anni a slechi non lo so come si pronuncia è un pescatore comunque suo amico dovrebbe aver capito che non mi piace parlare dei miei quadri di cosa rappresentino di cosa significano non sopporto quel genere di discorsi per niente è vero che i pittori possono benissimo condividere questo pensiero con gli scrittori però per come è impostato il fatto di comunicare ci sono delle parole molto particolari che vengono utilizzate per un romanzo nel proprio modo silenzioso di comunicare nel proprio modo silenzioso il silenzio non è dato dal dall'organo della vista su un'immagine dipinta ma è dato il modo silenzioso di comunicare mi dà più l'idea di qualcosa che venga letto in maniera silenziosa e quindi nella mente del lettore non so mi sta dando quest'idea non mi aspettavo che fosse così semplice da un punto di vista ma allo stesso tempo anche molto celebrale e costruito perché poi la storia sostanzialmente non c'è perché noi abbiamo questo flusso di pensieri all'interno di una giornata qualunque questo pittore anziano ci racconta della sua vita mentre guida mangia dorme non ancora non l'ho visto dormire quindi probabilmente non non dormirà però non c'è una vera storia non c'è un inizio sviluppo e fine per il momento non c'è anche se poi avvengono degli avvenimenti che sono degli avvenimenti che proprio per questo gioco di specchi possono prendere ora un significato ora un altro spesso in questo flusso di pensieri è come se quello che noi andiamo a leggere il pensiero che noi andiamo a leggere del protagonista abbiamo il protagonista che si va a specchiare sul personaggio che ha di fronte ma allo stesso tempo anche il narratore si va a specchiare nel protagonista è una cosa stranissima da da spiegare è più facile leggerla ecco è più facile leggerla e per il momento l'impressione di leggere una cosa che apparentemente molto semplice ma che c'è al suo interno una difficoltà una lui ha vinto il nobel nel nobel l'hanno motivato dicendo che lui aveva scritto molte opere teatrali anche per l'innovazione della posa e il suo della prosa e il suo modo di raccontare l'indicibile appunto cioè lui parte da una scrittura molto semplice molto piana accessibile a tutti e in questo anche bolagno era così per poi arrivare ad una costruzione emblematica molto spiazzante per il lettore che può anche espellerlo dal dalla storia per poi dare al lettore l'impressione che in realtà quello che fosse ci voglia dire non sia realmente quello che ci sta dicendo ma è qualcosa che sta al di sotto della pagina e debba essere decodificato questo flusso di pensieri mi dà l'idea che vada decodificato ovviamente sono a metà quindi le mie impressioni sono che mi sta piacendo non ho ancora bene la padronanza della storia nel senso che non mi posso sbilanciare più di tanto lo leggo con molto piacere e sono contenta che abbia vinto allora annesima location mi mancano un centinaio di pagine quindi possiamo fare qualche ragionamento in più anche perché riguardando la clip che avevo girato ieri mi sono dimenticata di sottolineare come poi il gioco a specchi e poi il tema del doppio si rafforzi con la presenza di un altro personaggio di nome Asle che fa il pittore anche lui è più giovane di Asle voce narrante ma ha dei problemi con l'alcolismo quindi il fatto dei nomi i nomi che vanno a specchiarsi anche perché abbiamo Asle i due pittori ma abbiamo anche la donna di Asle pittore vecchio si chiama Alice quindi abbiamo un anagramma c'è da dire che il gioco dei doppi che ci presenta Jon Fosse e mi sono andata a informare e si dice veramente Jon Fosse non è tanto sull'identità ma quanto sui ruoli infatti in questo libro esistono dei personaggi ma questi personaggi sono più un qualcosa riconducibile a dei ruoli si parla di lui, lei, moglie, marito, sorella, padre, madre, nonna seguiamo costantemente Asle stiamo continuamente nella sua testa però i pensieri che lui fa sono tutti pensieri legati alle azioni del quotidiano vi ho detto che la trama è minima di questo libro infatti il che è vero perché Asle si sveglia fa delle commissioni in un posto che è particolarmente lontano da casa sua poi ritorna dove abita e lì trova un suo amico pescatore che lo aspetta e nel frattempo lui pensa, pensa della sua arte, fa delle riflessioni sull'arte anche sul tema della dipendenza quello che mi ha stupito particolarmente è come alcune riflessioni non fossero esplicitate per esempio si parla molto di dipendenza, dipendenza d'alcol però questa dipendenza non è mai totalmente esplicitata in maniera problematica non c'è mai la problematicità psicologica della dipendenza o almeno non è esplicitata ma si avverte questa problematicità tra le righe la cosa che mi stupisce molto della prosa di Dion Fosse è che rimane in superficie la parte visibile tutto quello che sta sotto va decodificato nel momento stesso della lettura e quindi quando vi dicevo ieri che era una scrittura apparentemente semplice leggerla sembra molto accessibile ma in realtà per capirne il vero significato bisogna andare più in profondità e bisogna seguire questa voce narrante passo dopo passo, pagina dopo pagina mi sono segnata una serie di cose mi sono segnata ah poi tra le altre cose sto facendo una sto scambiando dei messaggi con un ragazzo che sta studiando norvegese e magari dopo vi leggo qualcosa che mi ha scritto sulla lingua utilizzata da Dion Fosse nella settologia allora Asle è una persona che non ha il senso dell'orientamento avevo trovato un pezzo mentre ho sempre avuto problemi con la mia cosiddetta capacità calcolatoria e ciò che non possiedo in assoluto è il senso del luogo il senso dell'orientamento e il fatto che oltretutto io sia così maldestro mi ha spinto a fare l'unica cosa di cui sono capace cioè a dipingere quadri e se voglio vivere di questo devo dipingere ed è un bene e un male ma bisogna insistere e continuare sì dipingere un quadro dopo l'altro almeno quello e quando non dipingo? e rimango seduto per ore a guardare fisso nel vuoto? sì sono capace di rimanere seduto a lungo a guardare fisso nel nulla è come se da questo nulla a questo vuoto posso aggiungere qualcosa come se da nulla aggiungesse qualcosa di reale o qualcosa che dice molto e quanto viene detto può diventare un quadro oppure rimango seduto a guardare nel vuoto e divento a mia volta vuoto e quieto e questa quiete vuota costituisce il mio pregare più autentico allora c'è in questo passaggio che secondo me è chiave due punti che basano la poetica di Jon Fosse e in particolare la sensibilità di questo romanzo il primo il non luogo siamo in Norvegia siamo in piccoli agglomerati cittadini non ci sono delle comunità non ci sono famiglie all'interno di questo romanzo ci sono dei ruoli appunto dei nomi a specchio che giocano sulla loro solitudine e che soltanto con il riflesso sull'altro nome riescono a carpire la propria profondità spesso Jon Fosse in questi giorni ovviamente è stato più volte paragonato a Beckett i non luoghi di Beckett l'aspettando Godot è un non luogo prima di tutto simbolico che ha un valore intrinseco e non è definito invece il non luogo di Jon Fosse è un non luogo definito e soprattutto i personaggi Jon Fosse si spostano da un luogo all'altro sono in una continua ricerca il concetto di ricerca è secondo me un concetto che accomuna Jon Fosse e Beckett e soprattutto anche il concetto dell'attesa Jon Fosse però noi siamo in un luogo definito non trascendente come quelli di Beckett che però richiama a qualcosa di trascendente la differenza tra Fosse e Beckett è che Beckett non è mai grottesco come è che Fosse non è mai grottesco come Beckett io infatti con Beckett lo adoro perché rido tantissimo ma io riesco a ridere anche con Bernard con Trevisan e non lo so riesco a ridere un po' con cose che non dovrei ridere però riesco a ridere con loro poi mi sono segnata questo appunto i personaggi fanno strade i personaggi fanno strade significa i personaggi fanno dei percorsi i personaggi fanno strada è un bel appunto che mi prendo i personaggi macinano chilometri ma in realtà non fanno nulla c'è una costante ricerca di un qualcosa di nascosto più l'attesa come in Beckett ah forse anche un musicista altra cosa si parla molto di indicibile in questo libro l'indicibile qui è sviluppato sotto forma di silenzio e la prosa di Fosse è molto musicale gioca molto sul silenzio e il silenzio ovviamente è una nota è un po' quello che dicevamo quando avevo fatto il reading vlog su Il Tempo in Bastardo di Jennifer Egan Jennifer Egan parlava della pausa di una canzone di David Bowie che David Bowie non era stato all'altezza di prolungare quella nota di silenzio per rendere il tutto più sospeso non aveva avuto il coraggio la formazione da musicista di John Fosse si riconosce molto nella prosa la prosa è altamente musicale e anche la punteggiatura viene utilizzata per esasperare la musicalità ci sono molte ripetizioni e le ripetizioni non fanno altro poi che dare l'idea ancora di più della musicalità del ritornello anche se secondo me le ripetizioni in Fosse nella prosa di Fosse sono l'ennesimo gioco a specchio è come se lui attraverso la scrittura e quindi attraverso queste ripetizioni volesse rendere anche nella prosa i riflessi che va a creare nei vari nomi nei vari personaggi nei vari ruoli la presenza della religione Asle è un personaggio altamente spirituale che utilizza la religione per placare un demone interiore l'aspetto spirituale reso dalla religione cattolica non mi ha disturbato sapete che io ho qualche problema quando incontro la religione nei libri ho bisogno che la religione non sia proselitismo e che sia adattabile anche da un punto di vista del lettore laico quello che trovo qui il fatto che per alcune pagine ci siano riportate delle preghiere addirittura in latino perché il personaggio Asle sta pregando non mi ha disturbato anche perché una di queste preghiere secondo me è il punto più emozionante più davvero toccante di tutto il romanzo almeno della parte che io ho letto quindi per il momento io posso dirvi che sono entrata in questo romanzo se ieri ero ancora al di fuori oggi a cento pagine dalla fine sono proprio dentro sono proprio catturata e ho dovuto entrare nella meccanica della prosa di Fosse un'altra cosa lui essendo un musicista essendo un artista e sono tantissime le riflessioni sull'arte a cominciare dall'orientamento guardare l'abisso lasciare andare l'immagine e soltanto con l'immagine è lasciata andare ed è fortissimo il riflesso tra pittura e letteratura lui essendo un drammaturgo probabilmente la prosa di Fosse si può capire appieno soltanto completandola con la lettura della drammaturgia non so se è realmente così però mi dà l'impressione essere questo quindi molto probabilmente ci sentiremo domani per l'ultimo l'ultimo commento a caldo sull'altro nome di Yon Fosse per il momento va molto ma molto bene l'ho terminato ragazzi l'ho terminato e che dirvi mi è piaciuto tantissimo non vedo l'ora il 10 ottobre che esca la seconda parte della settologia che poi io dico seconda parte però in teoria è il terzo e il quarto io è un altro mi pare si chiami comunque primo approccio che Yon Fosse totalmente promosso è difficile fare quest'ultimo commento senza poi rovinare la lettura un'ipotetica lettura a voi che mi state sentendo quindi non posso per forza di cose commentare il finale però posso dire che quello che mi sono segnata alla fine del libro è stata questa frase ha dato linearità alla prospettiva dei ruoli come una prospettiva come una proiezione cartesiana infatti quello che lui fa attraverso la narrazione lo fa in una maniera così semplice io seguo il tennis ok quando vedi due campioni di tennis che stanno giocando stai vedendo Roger e Nadal che giocano tu li guardi e pensi per loro è così semplice giocare a tennis è così facile poi ci provi te e non ci riesci ovviamente non ci riesci ma non ci riesce a quei livelli e Jon Fosse fa quello che fanno Roger e Nadal in campo gioca da fuori classe da campione con la parola con la realtà con la proiezione della realtà e lo fa in una maniera così semplice da farti apparire il suo gioco facilissimo da emulare ma in realtà difficilissimo se ci pensi bene vi volevo leggere quello che mi ha scritto questo ragazzo su Instagram perché lui studia norvegese e mi ha scritto il norvegese è una lingua molto scarna ed essenziale rispetto alle altre lingue europee quindi lo stile così coinciso di Fosse deriva anche da quello lui di solito scrive in Ninorsk Ninorsk spero di averlo detto bene che è una lingua creata artificialmente da un linguista che raccoglie vari dialetti norvegesi questa operazione è stata per raggiungere anche un'indipendenza linguistica dai danesi nella parte ovest della Norvegia c'è una prevalenza di Ninorsk in quella est c'è invece il Bokmal lo standard che viene dal danese è molto particolare questa cosa molto interessante perché noi magari lo leggiamo però non ci rendiamo conto di quello che c'è dietro ovviamente e questa è una cosa molto interessante che mi è piaciuto molto chiederla appositamente a questo ragazzo perché il giorno che c'è stato il premio Nobel quindi giovedì avevo fatto una storia su Instagram dicendo che lo stavo leggendo e da lì mi sono arrivati un po' di messaggi e abbiamo iniziato a parlare con più genti e questa cosa di parlare con altri di voi mentre che stavo facendo un reading vlog mi è servito oltre per avere questa informazione fast che io ho chiesto a lui appositamente in che lingua scrive fosse tu che stai studiando il norvegese ma mi è servita proprio per anche capire meglio quello che io penso su questo libro perché quando fai un reading vlog è vero che tu dai delle opinioni a caldo quindi ti prepari molto poco al di là anche della pronuncia del nome questo è stato un reading vlog su un autore che io non conoscevo totalmente sconosciuto in italia perché secondo me chi ha letto questo libro siamo in 20 in 30 non so però siamo veramente in pochi il reading vlog è qualcosa di molto improvvisato e il fatto di avere uno scambio con chi mi sta seguendo è una fonte di arricchimento una fonte di analisi ancora più approfondita del testo quindi molto probabilmente tutti gli altri reading vlog che seguiranno a questo avranno questa struttura oltre all'analisi in corso di lettura che faccio solitamente del romanzo mi piace anche creare un dialogo diretto con chi mi segue al fine di rendere il tutto più live possibile non essendo questa una live e non potendo fare una live di tre giorni mentre sto leggendo un libro quindi sappiate che leggerò appena uscirà la seconda parte della settologia se il momento è proficuo sono calma e ho un po' di tempo libero potrei anche girare la continuazione di questo reading vlog che diventerà anch'esso una settologia comunque prima vi ho fatto vedere nella clip che sono passata anche al mercatino dell'usato e ho trovato questi quattro libri molto velocemente il processo di frank kafka l'avevo già letto il processo però non lo trovo io l'avevo letto nelle edizioni quelle newton compton tipo mille cento pagine cento lire quelle a cinquemila lire o a mille lire non lo so non ricordo aveva la copertina o verde o celeste sparaflesciato ovviamente non un colore molto particolare comunque poi ho trovato anche vivere di quest'autore voglio leggere veramente qualcosa anche se avevo attenzionato brothers quindi lo metto lì per essere letto magari in un secondo momento invece barbara o'brien operatori e cose mi interessa moltissimo perché dovrebbe parlare una delle più straordinarie testimonianze dall'interno di un delirio schizofrenico durato sei mesi da cui miracolosamente con le sue sole forze è riuscita a liberarsi ma chi sono quelle figure che ha visto materializzarsi nella sua stanza e cosa vogliono da lei sono gli operatori occhio di guardiani che nel suo universo paranoide studiano sorvegliano e scogitano sempre nuovi modi per esercitare potere sulle loro vittime le cose tra le altre cose tra virgolette domani inizierò anche Stella Maris che parla di schizofrenia dovrebbe parlare comunque sia dei problemi psicologici di Alicia la sorella di Bobby che è il protagonista invece del passeggero e dovrebbe essere un romanzo basato sul dialogo con il suo psichiatra quindi potrebbe essere benissimo un percorso di lettura ideale ultimo libro che ho acquistato questo l'ho pagato un euro Claudio Magris l'infinito viaggiare ho preso Magris perché Mattia Nard all'interno di Bussola cita più volte Magris e viene citato anche da da Shadin Drindic nel suo Trieste infatti mi piacerebbe leggerlo presto come un po' tutti i libri che acquisto e che vi dico ultimamente e niente ragazzi questo reading vlog direi che finisce qui spero di avervi dato un'idea di quello che è stato per me questo primo approccio con Yon fosse vi saluto vi auguro buone letture se vi è piaciuto il video iscrivetevi al canale mettete un like commentate fate come mi pare io vi saluto e vi ringrazio vi auguro buone letture ciao grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti